Quando si parla di lavoro femminile ci si ferma in genere ad indagare due segmenti, le dipendenti e le manager. Quasi mai l'attenzione si focalizza sulle lavoratrici autonome e in particolare sulle imprenditrici. A colmare la lacuna arriva ora una ricerca della Confartigian Alto Lombarda che fotografa l'impronta che le donne danno alle imprese che guidano le differenze con la governance maschile. E alla fine quella che emerge non è un'agenda risarcitoria ma una nuova dimostrazione della vitalità delle piccole e medie imprese italiane. Dalla ricerca che ha preso in esame dieci aziende artigiane di Milano e Monza Brianza, metà guidate da donne e l'altra da uomini, emerge che l'età delle imprenditrici varia da 38 a 66 anni, hanno un livello medio di istruzione, sono sposate e hanno tutte almeno un figlio. Per loro il dilemma delle manager, figli o carriera, non si pone. Le aziende guidate da donne appaiono solide, la grande crisi non le ha stroncate, il loro limite sta nel mercato di riferimento, sempre provinciale o regionale ma internazionale. La differenza con gli imprenditori maschi è netta, gli uomini non vogliono altri pensieri e dopo la sveglia tendono a recarsi sul luogo di lavoro senza perdersi in compiti laterali.